Volevo chiederti secondo te questa volta in questa emergenza dato che comunque il popolo americano è noto per fare quadrato in periodi di difficoltà intorno al suo presidente questa volta si riconfermerà questo trend gli americani si ricompatteranno su trump o questa volta accelerano altro fin qui non si sta vedendo questa cosa i governi di mezzo mondo hanno visto i loro tassi di gradimento crescere dall'italia ma insomma in tantissimi altri paesi europei e internazionali per il la ragione che citavi quando siamo in grosse difficoltà tendiamo a non voler criticare troppo il governo e a unirci a non fare polemica in america questa cosa non si non si è vista c'è stato un iniziale aumento della popolarità di trump che poi però è tornata a scendere il però quindi al momento no però di nuovo ripeto in sei mesi può cambiare qualsiasi cosa quindi fare previsioni su novembre in questo momento a me sembra impossibile al momento no e trump non sembra nemmeno così interessato a fare il presidente che guida l'america attraverso questa crisi l'ha lasciata gestire tutto sommato ai governatori e lui non vede l'ora di poter tornare a occuparsi dell'economia e delle altre cose quindi diciamo mh vedi più difficile eh il ripetersi di un effetto 11 settembre guerra in Iraq con Bush al momento sì al momento sì eh trump non ha non è visto oggi come il leader della lotta al virus tant'è che ripeto fin qui non è stato premiato poi magari a un certo punto per gli americani diventa più grave e più pericoloso più minaccioso il lockdown rispetto al contagio e allora trump potrebbe incarnare la figura diciamo che che guida gli americani oltre il vero nemico che è la quarantena questo chi lo sa però ecco al momento non 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 mi sembra che ci sia al di là diciamo di quello che prevedo io non c'è nei nei dati mi sembra per quanto riguarda invece diciamo le relazioni internazionali soprattutto i rapporti america cina chiaramente l'america ha governato ha fatto da padrone nel 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 ventesimo secolo con il suo soft power credi che davvero come come si scrive in molti saggi la cina possa sorpassare a livello di soft power ma di influenza a livello internazionale gli stati uniti sorpassare è difficile nel senso che l'america comunque ha ancora un tale tasso di influenza non so tu quanti film cinesi hai visto io forse manco uno il computer il telefono il la serie tv che ho visto ieri sera la letteratura le vacanze insomma le università quanta gente conosce che studiate in america che studia in america un po sì che studia in cina che ha studiato in cina insomma molti ma molti meno quindi superarla è davvero difficile però intaccare una grossa fetta di quel tipo di predominio sì sta già avvenendo e come in tante cose la pandemia mi sembra che stia accelerando queste tendenze piuttosto che farci cambiare rotta la pandemia ci sta facendo andare al triplo della velocità sulla stessa rotta di prima e quindi gli stati uniti che se infischiano di quello che accade oggi nel mondo la cina invece che cercano che cerca di riempire quegli spazi vuoti questa è una tendenza secondo me storica che a prescindere da trump che si era già vista negli ultimi vent'anni e prescindere davvero da trump trump l'ha accelerata una vittoria di biden forse potrebbe mettere qualche rallentarla un po mettere qualche bastone tra le ruote un po alla cina però ecco non credo nemmeno che se dovesse vincere biden improvvisamente la cina smetta di crescere o smetta di essere aggressiva in giro per il mondo o interrompa gli investimenti sulla nuova via della seda mi sembra un fenomeno più grosso del singolo presidente secondo te dunque il soft power cinese è un po un'arma spuntata ma un'arma spuntata no credo che debbano ancora fare molta strada credo che debbano ancora fare molta strada debbano ancora rendersi invidiati ammirati imitati come l'america ha fatto per il novecento loro non sono ancora arrivati lontanamente a quel punto moltissime persone continuano a temere la cina anche in italia e continuano a provare un sentimento di a volte di aperto razzismo ma in generale di cinesi con tutti i luoghi comuni attorno ai cinesi gli americani per quanto hanno il loro tasso di luoghi comuni insomma sono visti come molto più positivi come come popolo e quella cosa lì ci vuole parecchio tempo per per smontarla specialmente se poi la cina sul piano geopolitica la cina sul piano geopolitico soft power line la spesso impostato in modo non così soft nel senso che l'ambasciata cinese in italia ogni volta che esce un articolo che non piace alla cina fa un comunicato di fuoco ogni volta che un ministro un sottosegretario dice una cosa contro la cina fa un comunicato di fuoco l'ambasciata americana magari alza il telefono ecco però non dà l'impressione di essere così prepotente anche quando lo è loro devono cercare di corteggiare i popoli dopo che sono riusciti a farlo con successo con i governi e le nazioni hanno investito comprato il debito eccetera sui popoli secondo me hanno ancora un sacco di strada da fare quindi un po un po' a chi la tartaruga usa cina per il momento sì però ecco quel distacco tra i due che si sta si sta riducendo ok grazie francesco figurati figurati